siamo quota 2000 oltre 2000 quasi al rifugio tissi con la parete nord con la parete nord esatto ecco tra poco arriviamo al rifugio tissi e poi il mio compagno non so che fine ha fatto ce l'ho dietro adesso lo sta aspettando ecco sta arrivando anche il mio compagno paolo dai dai che ci siamo via un po di stretching via ecco si vede già il rifugio tissi a 2002 ci siamo 2002 qualcosa e spiccioli quasi ci siamo la parete nord ovest eccoci siamo quasi arrivati circa 100 metri dal rifugio ci siamo poi tutto c'è una fine ecco ecco siamo al rifugio tissi 2000 e qualcosa finalmente ecco intraspetto il mio compagno faccio una ripresa qui siamo scesi dai 2002 lettissi e ora stiamo raggiungendo la seconda cima ciao 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 beh però vai siamo quasi in cima alla seconda vetta si vede alle che nel suo lago ecco paolo che sta arrivando ci siamo una dichiarazione per la stampa come ti dico al sotto cialega più morto più vivo prendo bene ci siamo quasi dai corri ferrara siamo quasi al secondo picco 2150 metri si sono messi a fare una struttura qua anche a nettole è un bel ideale ecco ecco ancora siamo vivi ancora siamo vivi il morale comunque alle stelle ancora ci siamo sono rimasti gli ultimi 5 chilometri ma ce la facciamo ecco 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 ec